Va bene, allora riprendiamo l'esercizio che abbiamo abbandonato ieri. Magari la notte e la giornata ha portato consiglio. Diciamo digerire un pochino di più ciò che abbiamo scritto e adesso ovviamente dovremo completarlo. Queste quattro righe, cinque, di codice, rappresentano il passo ricorsivo del nostro problema in cui cerchiamo di espandere un pronostico che contiene delle multiple, delle doppie e delle triple, nelle sue schedine componenti, nelle colonne individuali componenti. Allora noi avevamo pensato ad un approccio, come spesso si fa, costruttivo. Cioè io costruisco le varie colonne, le varie schedine risultanti una partita alla volta. Quindi ogni livello della ricorsione ha un compito molto semplice, di posizionare una partita, il risultato previsto di una partita. Quindi al livello 0 della ricorsione dovrò posizionare la prima partita, al livello 1 la seconda partita, al livello 2 la terza partita e così via. Quindi anziché avere una funzione che dice fammi tutte le schedine, ho una funzione che dice fammi la prima partita. E poi partizione, problemi, sottoproblemi che sono tutte le seconde partite, il resto della schedina data una certa scelta per la prima, virgola, il resto della schedina data un'altra scelta possibile per la prima e così via. Questo è un po' il pensiero, la parte difficile di questi tipi di algoritmi, inventarsi un modo di costruire la soluzione. Poi saranno tutti simili tra di loro con mille varianti ma condividono tutti un'anima comune. E allora ad ogni chiamata ricorsiva noi dobbiamo esplorare quelle che sono le mosse possibili, le cose possibili da fare, partendo da che cosa? Partendo da una soluzione parziale, quindi la schedina già riempita con quattro posizioni, devo riempire la quinta. Quindi ho già una soluzione parziale e devo valutare quali sono le mosse possibili su questa soluzione parziale per arrivare a una soluzione ancora parziale ma con un pezzettino in più. Quali sono le mosse possibili, le terze, quarte, quinte partite a seconda del livello in cui sono da aggiungere, sono quelle che sono previste dal pronostico che aveva fatto l'utente. L'utente aveva definito un set di risultati possibili che per lui erano prevedibili. E qua, quando andiamo a estrarre dalla previsione, dal pronostico P, le mosse che lui ha previsto per quel livello, per quella partita. Quindi la prima volta, il primo livello di ricorsione sarà get di 0 e get di 0 mi dà la previsione che lui ha fatto il risultato possibile che lui ha previsto per la prima partita. A livello 1 di ricorsione, a livello sottostante, farà una get di 1 e mi dà il secondo elemento del pronostico fatto dall'utente e così via. Questa previsione mosse, questa classe previsione, ricordiamoci che non è altro che un set, un insieme di risultati possibili. E io poi navigo questo insieme mosse, un risultato alla volta. Quindi se l'utente lì ci ha messo 2 e basta, 2 fisso, come si dice nel gergo del tutto calcio, quel ciclo 4 viene eseguito una volta sola, quindi in realtà non è una vera e propria iterazione. Se invece lui ha messo 1 x 2, quel ciclo 4 verrà eseguito 3 volte, la prima volta con mosse uguale 1, la seconda volta con mosse uguale x, la terza volta con mosse uguale 2. In realtà non so esattamente con che ordine li prenderà perché li pesca da un set, quindi l'ordine lo fa un dopo lui, ma è uguale. Lo itera 3 volte con le 3 mosse diverse possibili. quindi ad ogni livello di ricorsione il cosiddetto fattore di branching, cioè di quante chiamate ricorsive sotto faccio, data la chiamata corrente, varia da 1 a 3. 1 o 2 o 3. Per ogni chiamata ricorsiva ne faccio il livello sottostante o 1 o 2 o 3, a seconda di questo ciclo 4, quindi di fatto del numero di elementi di cui era composto questo insieme. A questo punto ho la soluzione parziale, la mossa che ho scelto di fare non faccio altro che aggiungerla. E il mio lavoro l'ho finito, da qua in poi si tratta di lavorare a livello più 1, ma il lavoro a livello più 1 non lo faccio più io, lo faccio fare a qualcun altro. Quindi aggiungo la mossa che ho scelto e dico a qualcun altro di finire il lavoro. Che poi sia sempre io o questo qualcun altro non importa. E poi visto che questo era solamente un tentativo perché poi con questo form ne farò altri tentativi, dicevamo un'altra volta backtracking, devo rimettere le cose a posto come stavano. Allora questo che ci crediamo o no è il 98% di ciò che ci serve. Perché cosa serve ancora a questo punto? Serve qualcosa che mi fermi, che mi fermi la ricorsione. Qual è il problema di espansione della schedina più semplice possibile, più banale possibile, più trivial possibile? È quando la schedina è cestuta piena. Allora non devo più scegliere nulla. la schedina è da 13, se mi passano un parziale che ha già 13 elementi, quella è la soluzione. Se mi passassero un parziale che ne ha ancora solo 12, devo fare del lavoro per decidere il tredicesimo, ed è quello che fa questo ciclo forno. Ma se ne ho già 13 non ho nulla da fare. Quindi se per caso il livello è uguale al numero di elementi di cui la schedina deve essere composta, non ho più nulla da fare. Questo numero di elementi era una costante n, dunque dove lo possiamo pescare? Nella classe cronostica c'era questo valore di n, ci siamo dimenticati, ma perché non ci serviva finora di fare un getter, public int get n, dis.n, facciamo un getter nel pronostico così riesco a scoprire quanto deve essere lunga la schedina. Cioè se il pronostico ho di 8 elementi, io quando sono arrivato al livello 8 ho finito di comporre la schedina possibile. Non potrei neanche cercare di ottenere il nono elemento del pronostico, no? Mi darebbe eccezione. Cioè leggerei fuori dall'array. Quindi se il livello è uguale a p.get n, ho finito. Questo è il caso terminale. La soluzione ho una soluzione completa, perché ha già n elementi. L'elemento di indice livello sarebbe già l'n più unesimo. No? N li ho già fatti, l'n più unesimo non ha senso metterlo. E allora questa soluzione, non so, la stampo? La soluzione è parziale, che in questo caso in realtà è totale. Giusto per vederla. E poi mi chiedo, a questo punto devo ancora andare avanti? No. Se io lasciassi il codice così, trovate una soluzione completa. la stampo? Beh, il codice poi verrebbe eseguito. Comunque questo codice qua sotto. E cercherebbe di fare un get di un livello che non esiste più e quindi mi darebbe un'eccezione. In questo caso se sono alla soluzione terminale esco. Cioè l'ultima funzione, quella ultima chiamata, quella più in basso, quella di livello 13, dice, oh, mi hai già dato una soluzione completa. La stampo ed esco. Non ho altro da fare. Questo è il caso in cui quel return lì mi dice che il mio modello di ricorsione trova le soluzioni solamente nei nodi terminali e dopo che ho trovato una soluzione sotto non troverà più nulla. Non ci sono più soluzioni al di sotto di quello che ho già trovato. Se invece ci potessero essere altre soluzioni al di sotto più lunghe di quello che ho già trovato, ovviamente non le schedine che sono di lunghezza fissa, allora basta togliere quel return e lui dopo che ha analizzato la soluzione corrente completa va avanti a cercarne delle altre. Arricchendo ancora la soluzione corrente. Dipende ovviamente dal problema. In questo caso no, ci dobbiamo fermare. Finito. Adesso questa funzione cerca, dobbiamo chiamarla ovviamente, perché questa è una produzione privata della mia classe expander. Il programma principale chiamava questo metodo expand semplificato, qui passava il pronostico e si aspettava di ricevere una lista di schedine. Adesso la funzione della lista ci pensiamo tra un secondo. Però questo metodo expand non deve fare altro che chiamare il metodo cerca a livello zero. Fa la prima chiamata del metodo ricorsivo, preparandogli le variabili che gli servono. Quindi il metodo cerca ha bisogno di una schedina parziale e diamogli una vuota. In realtà il costruttore di schedina ha bisogno della dimensione. Una copia del pronostico, il livello. Cioè ti passo, ti dico guarda che tu sei a livello zero, quindi devi mettere a posto la prima partita. Quindi ti passo una schedina che contiene al suo interno, finora, zero partite. Quindi una new schedina predisposta per avere n partite, ma per ora non ne ha nessuna, è vuota, no? Una lista vuota, ti passo. Una lista vuota e ti dico mettimi il primo elemento. Level uguale zero vuol dire mettimi il primo elemento. Per scandalo ovviamente sempre dal pronostico P. Quindi ieri abbiamo costruito il caso intermedio. Oggi abbiamo in un attimo aggiunto il caso terminale e il caso iniziale. Vediamo se funziona. Allora noi abbiamo questo test pronostico che chiamava l'expander e sull'expander chiamava il metodo expand. Il metodo expand, abbiamo visto, lancia la ricorsione. Fa la prima chiamata. L'expander è una procedura non ricorsiva che chiama per la prima volta la procedura ricorsiva, la quale poi farà tutto il lavoro al suo interno. Vado? Allora, questa stampa qui è la stampa del pronostico. È questa. Quindi ciò che l'utente ha inserito. Vediamo di nuovo dove l'ho chiusa. Ovviamente, window, console. Mettiamola sotto che sta ferma. Quindi 2, 1x, 1x2. Queste altre, che sono giustamente 6, 2 per 3, 1 per 2 per 3, 6, sono le colonne corrispondenti. Quindi 2, 1, 1, 2, 1x, quindi ho preso il 2 da qua, l'1 da qua e l'x da qua. 2, 1, 2, quindi 2 da qua, l'1 da qua e il 2 da qua e così via. Adesso, queste stampe qui, noi non le vediamo nel main perché sono annegate dentro la classe expander, qua dentro. Ovviamente queste dovremmo togliere da qua. Non vogliamo che la procedura ricorsiva stampi delle cose di buzzo suo. Voglio che mi restituisca una lista con i risultati, però finora stiamo ancora sviluppando, quindi non siamo ancora alla fine. Se cambio il pronostico, facciamolo più complicato, facciamolo con 5 partite. Magari già la prima partita io sono indeciso se è 2 o 1. e poi aggiungo altre due partite, una nuova previsione. Questa volta sarà un x fisso. E poi ci aggiungo ancora un'altra previsione, un 1, 2 via. 1, 2. Non la faccio da 13 perché... Quindi costruisco un oggetto pronostico un po' più lungo di 5 elementi, ma in teoria il nostro programma dovrebbe funzionare lo stesso. Quindi il pronostico era 1, 2, 1x, 1x2, x1, 2. E queste sono le schedine possibili, 1, 1, 1x1, 1, 1x1, 1, 1x2, che è qua sotto, e così via. Prima ci sono tutte quelle che iniziano con 1, poi a un certo punto ci sono tutte quelle che iniziano con 2. perché chiaramente la procedura di livello 1 prima fa un tentativo e poi chi ha livello 0, perdono, prima fa un tentativo, cioè prova a mettere l'1 e poi vede cosa succede avendo messo l'1. E lì si fanno tutte le prove possibili e immaginabili tenendo fisso l'1. poi quando la ricorsione tornerà di nuovo a livello 0 lui toglierà quell'1, proverà a mettere il 2 e ricorsivamente farà tutte le prove possibili e immaginabili tenendo fermo quel 2. Ok? Se vogliamo provare a visualizzare cosa succede possiamo provare a farlo mettendo in debug questa funzione mettiamo un breakpoint qua e proviamo a eseguire questo programma in modalità debug giusto per capire e cercare di capire un po' meglio cosa succede qui siamo a livello 0 il debugger usatelo mezzo Eclipse è fatto il debugger mezzo di sviluppatore, mezzo di compilatore ed editor ma l'altra metà è lo debugger quindi siamo a livello 0 e quindi questa IF sarà falsa mi dà le mosse possibili del primo livello mosse è un set che contiene i valori adesso qua è complicato da vedere 1 e 2 qui sopra ci sono tutte le variabili attive al momento dell'esecuzione io se però vado sul sistema sulla variabile mi chiamo automaticamente toString per farmi vedere il valore quindi se posso espandere il contenuto della variabile ma più semplicemente se la seleziono mi fa vedere in quest'area il valore il toString del valore quindi 1, 2 vuol dire che la prima mossa è 1 che provo ad aggiungere aggiungi la soluzione parziale la prima mossa quindi la soluzione parziale adesso è 1 e poi faccio la chiamata ricorsiva uso questo simbolo Step Into per entrare dentro la chiamata ricorsiva e mi ritrovo indietro mi ritrovo alla prima istruzione della funzione ricorsiva però guardate lo stack delle chiamate questo c'è il main che ha chiamato il metodo expand che ha chiamato il metodo cerca che ha chiamato il metodo cerca una seconda volta le variabili che vediamo qua sono quelle del secondo metodo cerca se tocco qua vedo le variabili del primo metodo cerca quello di livello 0 clicco qua livello 1 ogni metodo cerca ha una sua copia dicevamo ieri dei parametri e delle variabili locali che si crea lui allora vado avanti get livello questa volta le mosse sono le mosse sono 1x diverso da prima perché abbiamo fatto un get livello 1 e quindi la prima mossa che farà sarà un 1 anche lei e chiamo ricorsivamente il metodo cerca per la terza volta quindi ho expand che chiama cerca che chiama cerca che chiama cerca questo prende in gergo prende il nome di stack delle chiamate una pila di chiamate in cui ogni volta che facciamo una chiamata se ne impila una in più sopra quelle precedenti e ho attive più copie della stessa procedura ferme in punti diversi e con valori diversi le proprie variabili sono entrato dove non serviva qui di nuovo avrò un'altra mossa posso entrare e sono a livello 4 cioè level 3 quindi la quarta arriviamo solo una volta fino alla fine posso entrare adesso livello 4 n vale 5 quindi secondo me dobbiamo ancora farne una ecco noi abbiamo il livello adesso che è 5 lo vediamo da qua anche quindi sarà uguale al get n quindi questa volta questa if andando avanti l'istruzione entra qua dentro e stamperò la prima schedina parziale che ho trovato quindi sono dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6 il sesto livello di ricorsione i primi 5 hanno suddiviso sotto problemi della prima seconda terza quarta quinta partita rispettivamente la sesta chiamata invece ha risolto il sottoproblema banale cioè vuoto non c'era niente da fare fatto questo lei esce return e quindi da 6 chiamate annidate siamo tornati a 5 perché la sesta è appena tornata qui abbiamo un parziale che era ancora praticamente quello che abbiamo appena stampato questo qua vedete che il parziale che ho adesso è uguale al valore che ho appena stampato ma col backtrack lo rimetto subito a posto è sparito l'ultimo pezzo sono tornato a una lunghezza da 4 per poter tornare su nel ciclo 4 e aggiungerne l'altra possibilità l'altra possibile alternativa la quale l'altra possibile alternativa ricorsivamente scoprirò che è un caso terminale valido e verrà stampata anche lei e poi torno su finite queste due alternative che erano le uniche per questa posizione anche questa funzione di livello 4 ritorna sono arrivato alla graffa chiusa quindi quando vado ancora avanti di un passo torno al livello 3 a livello 3 avevo ancora roba da fare? sì a ogni livello è come se ogni livello avesse non avesse a tiene traccia di ciò che ha già fatto e ciò che deve ancora fare quando sono a livello sotto me ne sono dimenticato ma quando torno sopra lui sa esattamente cosa deve ancora fare tipicamente rimuovere l'ast dalla prevision parziale rimuovere l'ast e fare altri tentativi no in questo caso no perché era la penultima situazione aveva come pronostico l'x fisso quindi in questo caso ha fatto un tentativo ha finito e può tornare su e siamo tornati qua a questo livello e così via adesso farlo passo passo tutto chiaramente richiede una dose di pazienza e di tempo però ci può aiutare a capire cosa sta succedendo ok facciamo arrivare alla fine ah già per essere il backpoint sulla funzione ogni volta che viene chiamata togliamo il backpoint facciamola arrivare in fondo ok ok allora torniamo alla visione normale di Eclipse allora ciò che cosa ci manca beh a livello di procedura di corsia non ci manca praticamente nulla è solamente che il metodo expand dovrebbe restituire una lista di schedine e chi la costruisce questa lista di schedine vabbè in realtà la posso costruire io qua dentro cioè anziché stampare la schedina quando trovo una soluzione la accodo alla lista delle soluzioni trovate quindi mi farò una lista in cui di schedine che può creare benissimo il metodo expand e poi va a rimpolpare ogni volta che trova una soluzione il metodo cerca nel suo caso terminale quindi abbiamo dove la definisco questa variabile allora questa elenco di schedine deve essere qualcosa che viene creato da expand e viene modificato da cerca posso definirla come proprietà di questa classe private list schedina soluzione e la soluzione viene creata nel metodo expand viene creata nel metodo expand e viene restituita la chiamante io la definisco qua la new la faccio dentro nel metodo expand non lo faccio qua nella variabile perché se il chiamante volesse chiamare il metodo expand più volte con più pronostici diversi ogni volta ha una soluzione diversa quindi voglio avere proprio liste soluzioni diverse ogni volta altrimenti andrebbe a sovrascrivere peggio ancora appendere le nuove soluzioni all'elenco della chiamata precedente quindi così ogni volta vado con questo new vado a cancellare eventuali elenchi fatti calcolati nelle chiamate precedenti e adesso però questa lista che ritorno sarà vuota questa return per non farla vuota devo popolarla qua quindi qui sarà semplicemente un soluzione punto add parziale quindi noi le soluzioni sappiamo che ci sono vengono fatte le vediamo e anziché stamparla a video aggiungiamo una lista e questa lista la restituiamo al chiamante allora torniamo al chiamante che è test pronostico e che a certo punto la stamperà proviamo a eseguire adesso dovremo aspettarci praticamente la stessa cosa solo che la stampa dei risultati viene fatta non dalla procedura ricorsiva bensì dal main e invece ho un'eccezione un'eccezione tra l'altro in un posto strano perché è dentro two string di schedina ma perché qui sono io che ho voluto fare il pignolo è aggiungere togliere l'ultimo spazio in fondo alla schedina proviamo a togliere questo qua che dà fastidio poi lo rimettiamo questa è un'estetica questo è un'estetica del two string perché io ho fatto la schedina che con uno trattino due trattino x ci sarebbe ancora un trattino in fondo allora qui l'ho cancellato togliamo questa cancellazione vediamo cosa succede qual è il problema vero questo è il problema vero questa cosa qua strana che sembra una cornicetta è la stampa della lista soluzione che contiene degli elementi ma sono tutti vuoti contiene delle schedine perché ci sono tutte queste virgole che le separano quindi contiene una due tre quattro cinque vabbè le contate voi schedine ma queste schedine anziché avere cinque risultati ne hanno zero dieci punti che mi dice perché non dieci punti all'esame no 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 non sono così facili dieci punti finti cosa sto sbagliando qua evidentemente la lista soluzione cosa contiene contiene ogni volta che trovo una soluzione nuova un riferimento all'oggetto schedina che in quel momento contiene la soluzione ma quell'oggetto schedina è sempre lo stesso perché noi abbiamo un oggetto unico parziale questo qui a cui non abbiamo neanche non si è neanche inventato un nome ho creato un unico oggetto schedina e ci sto aggiungendo e togliendo roba sto aggiungendo e togliendo elementi da questo oggetto schedina nella ricorsione schedina .add sull'altro non schedina parziale questo oggetto questa new schedina qua dentro si chiama parziale parziale .add parziale .remove ma è sempre lui ok quindi quando nella soluzione per la prima volta trovo una soluzione faccio add parziale soluzione nella lista dentro questa lista il primo elemento sarà un riferimento all'oggetto schedina parziale e quell'oggetto schedina in quel momento contiene la schedina piena di qua poi quando vado avanti e torno indietro nella ricorsione nel backtrack tolgo un elemento da quell'oggetto schedina che è l'unico e quindi anche nella lista soluzione il primo elemento sarà quella schedina lì e quindi viene modificata non viene fotografato ciò che ho detto l'ho ripetuto due volte vediamo se ci facciamo caso bene che quando io aggiungo la soluzione in quel momento la schedina contiene la soluzione ma un attimo dopo magari no perché la stiamo modificando allora io ciò che devo fare è fotografare il valore che ha in quel momento l'attuale schedina se andiamo a vederlo in debug si capisce ancora meglio spero mi fermo qua quindi faccio lavorare e poi mi fermo un pelo prima di trovare la soluzione andiamo a vedere soluzione soluzione è una lista che contiene tanti elementi però andate a vedere chi sono questi oggetti sono tante volte lo stesso oggetto id uguale a 33 è il suo identificativo nell'ip quindi ho aggiunto a una lista 23 volte lo stesso oggetto il riferimento allo stesso oggetto è perché java lavora per riferimento sempre io invece voglio 23 oggetti anzi 24 perché parto da zero tutti diversi tra di loro perché ciascuno dovrà contenere una schedina diversa allora cosa posso fare anzi cosa devo fare devo non aggiungere un riferimento alla schedina corrente ma aggiungere un riferimento a un nuovo oggetto new che contenga una coppia dei valori della schedina corrente quindi devo fare una nuova schedina copiando i valori di questa quello che si dice è fare una deep copy qui ci siamo copiati ci siamo salvati il riferimento è una shallow copy una copia leggera superficiale e quindi mi copio solamente il riferimento copiare il riferimento va bene se poi l'oggetto non cambia oppure se l'oggetto dovesse cambiare mi interessa avere la versione l'ultima non quella che avevo visto prima se io invece voglio fotografarmi l'oggetto devo farmi una deep copy una copia profonda copiare non solo il riferimento dell'oggetto ma gli elementi che esso contiene in un altro oggetto mio in java non c'è nessun costrutto per farmi la deep copy in automatico ci sono due prassi che non li pattern ma sarebbe esagerato un modo un modo è dotare dell'oggetto schedina di un metodo clone normalmente si chiama clone un metodo clone è un metodo dell'oggetto schedina che restituisce schedina restituisce un altro oggetto schedina uguale a se stesso quindi dentro quel metodo farà una new e ci copierà i valori oppure ancora più semplice io preferisco un clone constructor un costruttore clonante cioè un public schedina che riceve quindi un costruttore come parametro un'altra schedina quindi se io ho una schedina posso fare new schedina passando di quella vecchia e lui mi crea un nuovo oggetto ovviamente ho fatto new e il costruttore si preoccuperà di copiare i campi dentro quindi un costruttore che ti crea un nuovo oggetto di un certo tipo prendendo come parametro un oggetto dello stesso tipo e cosa deve fare? deve fare dis.n uguale ader.n perché schedina ha due campi n e colonna quindi deve travasare nel nuovo l'n e la colonna dell'altro attenzione però di non fare questo errore perché se facessi questo errore di copiarmi il riferimento a colonna che è la lista che contiene gli effettivi risultati avrei effettivamente creato un nuovo oggetto schedina avrei creato 24 oggetti schedina diversi ma tutti internamente punterebbero lo stesso oggetto list e quindi la mia deep copy non è proprio deep si è fermata al primo gradino per copiare tutto devo copiare fino in fondo quindi anche questa array list non mi devo copiare il riferimento devo creare una nuova array list con lo stesso contenuto questo lo posso fare facilmente perché per fortuna array list ha un metodo un clone constructor array list normalmente la creiamo dicendo vuota se io ho una collection in questo caso un array list passo nel costruttore un'altra collection vedete come l'assignature array list tra parenti di collection costruisce una lista che contiene gli elementi della collezione specificata nell'ordine giusto va bene quindi costruisce un'altra lista in cui ricopia gli stessi elementi quindi un altro oggetto schedina che contiene sull'interno un altro oggetto lista e in questo altro oggetto lista ci sono gli stessi oggetti risultato risultato è un oggetto scalare immutabile è un enum e quindi mi posso fermare se questo risultato a sua volta fosse una struttura complessa dovrei non basterebbe fare questo dovrei entrare dentro il risultato clonare i risultati eccetera non a caso si chiama deep copy cioè vado giù nel profondo a ricopiarmi tutto ok ok allora le prime settimane quando giocavamo con riferimenti oggetti eccetera sembravano stupidaggini in realtà sono quelle che ci salvano capire queste cose è quello che ci salva in questi contesti un pochino più complicati allora fatto questo quindi abbiamo dotato schedina del clone constructor nel mio expand non aggiungo parziale ma un new schedina inizializzata con una coppia di parziale così sono sicuro di fotografarmi il valore che aveva il parziale in quel momento e quindi dopo la procedura ricorsiva se lo può modificare come vuole io mi sono fatto una copia questa copia l'ho salvata e aggiunta in soluzione e allora adesso va a far un bagno schedina punto java 20 cosa mi fa? null point exception vabbè colonna non esiste other punto colonna non ho scritto add punto colonna perché devo prendere l'altro oggetto e quindi lui ha sottinteso dis punto colonna che ovviamente è null perché non l'ho ancora inizializzato ok eccolo qua bene adesso qui si le mette tutti in fila anziché uno sotto l'altro ma perché il two string della list funziona così se non mi piace mi faccio il ciclo for per stamparmeli questo trattino finale è quello che a me dava fastidio e allora nel two string di non era di risultato era di previsione dove era no di schedina sì questo qua che avevo che creava il point of exception prima ma non ci faceva capire quale fosse il problema vero ok qui come dicevo è solamente una cosa estetica ok quindi qui abbiamo il metodo expand prende un pronostico restituisce una lista di schedine che sono l'espansione valida di questo pronostico prepara gli oggetti di cui la procedura ricorsiva avrà bisogno nel nostro caso l'oggetto soluzione è un oggetto parziale e lancia la ricorsione il resto del lavoro lo fa tutto questa procedurina qua c'è tutto qui la prima impressione che mi danno sempre i programmi ricorsivi è manca qualcosa cioè dov'è che viene fatto il lavoro io qui ho un metodo che dice ah sono togliamo questo system.out sono così fortunato che la soluzione ce l'ho già e quest'altra parte che dice ma io la soluzione non ce l'ho ma la delego a qualcun altro e sembra che non ci sia mai nessun punto in cui davvero viene calcolata questa soluzione a me dà un po' questa impressione in realtà sì viene fatto pezzettini tante piccole scelte provate ad aggiungere una per volta quindi è un codice molto compatto alla fine quello della ricorsione molto denso perché su ogni riga ci abbiamo dovuto riflettere su ogni istruzione e basta poco per sbagliare come abbiamo visto le varie trappole che ci sono in giro però alla fine poi riesce a esplorare un albero di possibilità anche molto ampio con poco codice quindi questo è un caso in cui ho un certo numero di livelli fisso noto a priori non è sempre detto che sia così ad ogni livello ho un certo numero di scelte possibili un branching factor quindi un fattore di espansione della ricorsione variabile tra 1 e 3 variabile ma limitato al massimo 3 e cosa interessante è che il branching che faccio ad ogni livello non dipende da cosa c'è sopra cioè il fatto che sopra vi avrebbero messo tutti 1 o tutti 2 non influenza in nessun modo le scelte possibili a livello 7 quindi le varie scelte e i vari livelli sono tutte indipendenti l'una dall'altra questa è una facilitazione ovviamente dipende dal problema in questo caso è così diverso sarebbe chi fa totocalcio tra virgolette professionista e dice sì però in una schedina non possono esserci più di 6 partite con risultato 2 allora se in passato sopra ho già 5-6 scelte con 2 nei livelli inferiori non potrò più scegliere 2 e quindi avrò una sorta di interdipendenza tra le scelte che posso fare in un livello e le scelte che ho fatto nei livelli precedenti non mi perdo niente perché tanto alla fine le provo tutte però la scelta non diventa più indipendente e neutra allora per provare un altro problema di questo genere se non avete domande su questo passerai un altro esempio un altro esempio di cui forse avevo la slide ma ci metto troppo tempo a trovare non importa è il problema cosiddetto delle otto regine allora fatemi salvare questo poi faremo un commit cos'è il problema delle otto regine dottore regine immaginate di avere una scacchiera mettiamola nel read me mentre lo raccontiamo una scacchiera vabbè 8x8 classica e su questa scacchiera dovete posizionare posizionare 8 regine degli scacchi sapete che il pezzo delle scacchi in regina si può muovere in verticale in orizzontale in diagonale per un numero di quadretti arbitrariamente arbitrario cioè da una casella fino all'intera scacchiera in modo che non si mangia tra di loro allora facciamolo nel piccolo se io avessi una scacchiera solamente 4x4 quindi una cosa così questa è una scacchiera 4x4 bellissima vero? come posso devo mettere 4 regine qua dentro in modo che non si mangino vicenda allora non so la prima la posso mettere qui poi se lo metto qua nella prima riga non potrò più metterne nella seconda riga prima colonna non posso metterla perché se no viene mangiata da quella in alto nella seconda casella neppure perché viene verrebbe mangiata in diagonale la posso mettere o qui o qui proviamo qua terza riga qui non posso metterla qui neanche perché mi mangi in diagonale qui neanche perché mi mangi in verticale qui neanche non va bene se fosse una procedura ricorsiva tornerai indietro e direi questa Q non mi ha portato fortuna provo a metterla qua allora se la metto qua qui no qui sì giusto? qui no qui no quindi posso passare alla quarta riga e non ho nessun posto in cui poterla mettere niente allora questa non andava bene qua ma non ho altre alternative qua questa non andava bene qui ma ho esaurito tutte le alternative allora vuol dire che era sbagliata questa e la provo a mettere qui e vado avanti vabbè però la ricorsione non la faccio a mano me la faccio fare dall'algoritmo però per capire l'idea quindi il Q è qua l'altro lo posso mettere per forza solamente qui l'altro lo potrò mettere qui e l'ultimo lo metto qua questa volta su una scacchiera 4x4 ho 4 regine che non si mangiano tra di loro quando avete risolto questo problema potete risolvere anche quello del super regine che è un pezzo del scacchio immaginario che oltre alle mosse della regina può fare anche quello del cavallo allora in questo caso nella 4x4 non si può fare vedete che sono tutte messe uno rispetto all'altro con la mossa del cavallo due quadretti più uno in diagonale ok questo è ciò che vogliamo fare e cercare di impostarlo ricorsivamente un po' come abbiamo fatto a mano il problema noi l'abbiamo raccontato esposto sotto forma di matrice bidimensionale ma nella realtà si tratta di selezionare per ogni riga dove metto la regina quindi in realtà questa soluzione la posso codificare dicendo la prima riga la riga 0 nella riga 0 metto la regina in posizione 1 nella riga 1 metto la regina in posizione 3 nella riga 2 metto la regina in posizione 0 e nella riga 3 metto la regina in posizione 2 lo so che è strano contare da 0 le colonne di una tabella ma se lo facciamo è più facile vedere le cose nella realista quindi in realtà ciò che sto facendo è definire questi 4 numeri la struttura dati per rappresentare una soluzione completa o una soluzione parziale è semplicemente una lista di numeri con certe caratteristiche per carità tra 0 e n non si devono ripetere eccetera allora questo il fatto di scegliere di rappresentare la matrice dando le coordinate solamente la posizione della regina per ogni riga già in automatico mi rispetta un vincolo quello di non poter mettere due regine sulla stessa riga quindi ho già ragionato sul problema ho già visto ma visto che tanto in ogni riga ci sarà una regina sola perché mi devo incasinare nel gestire riga e colonna io so che la prima riga ci sarà una regina mi devo solamente ricordarmi dov'è non quante sono e dove sono dov'è e quindi mi metto il numero quindi un problema di questo genere si può impostare allo stesso modo la soluzione dicevamo la soluzione parziale è una lista di numeri tra 0 e n-1 se n è la dimensione della matrice la soluzione parziale sezione totale è una soluzione parziale con esattamente n elementi cioè sono arrivato al fondo della matrice questi numeri qua sarebbero le colonne gli elementi cioè la lunghezza di questa lista sono le righe la lista è più lunga vuol dire sono arrivato più alle righe più avanti e il valore che c'è dentro ciascuna casella rappresenta la colonna in cui la regina di quella riga verrà posizionata quindi per costruire la soluzione parziale viene costruita aggiungendo aggiungendo una nuova regina per volta nella riga successiva quindi metterò la regina nella riga che è uguale a livello a livello 0 trovo la riga la posizione provo le posizioni della regina nella riga 0 a livello 1 proverò proverò le posizioni lecite della regina a livello 1 e così via ma qui è diverso rispetto a prima perché aggiungendo una regina nella riga successiva quindi nella riga livello le posizioni in cui la posso mettere non sono tutte e 4 ma dipendono da che cosa fanno le regine a livello superiore quindi le soluzioni lecite le mosse possibili ad un certo livello dipendono da quali caselle sono ancora libere dall'attacco delle regine poste nei livelli precedenti nelle righe precedenti solo precedenti non successivi perché successivo non c'è niente la metà sotto è vuota quindi devo solo guardarla indietro per decidere se e dove posso mettere la regina questa è la regola di ricorsione che poi dobbiamo tradurre in codice la struttura dati ha una lista di interi fino a n i cui valori sono i numeri da 1 n e la regola per costruirlo è scegliere un numero che sarebbe la colonna da inserire nella riga successiva purché non sia sotto attacco quindi dovremmo scriverci una procedurina che va a fare i controlli su righe colonne diagonali eccetera anzi no righe no colonne diagonali solamente e poi una volta trovata la prima soluzione la ricorsione può terminare la ricerca può terminare cioè non mi frega niente di elencare tutte le possibili combinazioni se voi prendete la soluzione fate delle simmetrie delle rotazioni chiaramente saranno tutte ancora valide mi interessa trovarne almeno una a differenza delle espansioni in cui volevo tutte le colonne questo è un problema di ricerca mentre nel caso dell'espansione era facilissimo trovare una colonna bastava mettere tutti uno cioè scegliere sempre un elemento a caso arrivavo in fondo qui scegliendo a caso non arrivo in fondo mi blocco prima allora per questo intendevo la volta scorsa li ho chiamati problemi di ricerca in cui non è facile costruire una soluzione completa una volta che l'ho trovata sono contento così e mi fermo poi vediamo cosa vuol dire mi fermo perché se sono otto chiamate ricorsive sotto non mi basta un return per uscire da otto chiamate ma ci arriviamo ok allora proviamo a fare io avevo creato delle classi ma secondo me non mi servono una classe ma si chiamiamo la regina cancello solo quello che c'era perché non c'entrava niente la classe regina ops ho lanciato troppo che è la classe che troverà questo soluzione allora abbiamo detto che la soluzione parziale è una lista di interi cioè volendo potremmo definire un oggetto posizione casella della scacchiera ma magari per semplicità possiamo semplicemente usare delle liste di interi quindi abbiamo una funzione un metodo che mi restituisce una lista di interi chiamiamola posiziona posiziona regine posiziona le regine su una scacchiera di dimensione n questo sarà il metodo pubblico facile esterno con l'interfaccia pulita poi internamente avrò un metodo ricorsivo quasi sempre sono diversi questi perché il metodo pubblico deve fare il lavoro in più di housekeeping di gestione crearsi la lista eccetera formattare il risultato mettiamo un return 0 così non è rosso e poi ci pensiamo questo metodo posiziona si baserà su una procedura di ricerca per ora la faccio void poi dovremo cambiare che cerca di implementare il passo intermedio della ricorsione allora ragionamento è molto simile cosa ricevo qual è l'informazione su cui devo lavorare avrò una scacchiera già mezza piena saprò la dimensione della scacchiera e saprò a che livello siamo arrivati quindi i parametri di ingresso della procedura ricorsiva saranno la scacchiera già mezza piena e la scacchiera la presento sempre come una lista di interi la posso chiamare scacchiera scacchiera vabbè parziale è la variabile parziale di prima poi avrò un intero che mi dice quanto è grande la scacchiera e avrò la il livello a cui sono arrivato quindi questa procedura che cosa fa assumendo che scacchiera sia piena nelle righe da zero a livello meno uno cosa fa questa funzione determina le possibili posizioni per una regina alla riga livello e prova ricorsivamente a posizionarla quindi scacchiera è la lista delle posizioni delle regine precedenti dove come posizioni intendiamo ovviamente la colonna è nella dimensione della scacchiera e il livello è la riga a cui deve lavorare la ricorsione e quindi il caso terminale quando è che la procedura cerca non ha bisogno di fare nulla perché la soluzione è già stata trovata quando livello uguale a n poi dobbiamo scoprire come far a tirarla fuori questa soluzione da lì ma perlomeno abbiamo isolato quel caso ed esco l'ho trovata in questo caso di nuovo facile come prima livello uguale a n anche prima c'era un livello uguale a n come condizione di terminazione perché erano due esempi questi sono due esempi di ricorsione di lunghezza di profondità costante finita so esattamente che se sono a livello n ho finito la ricorsione non posso andare oltre quindi condizioni in questo caso necessarie e sufficiente per aver trovato una soluzione e essere arrivati a livello n non sempre è così non sempre so a priori quanto sarà lunga di quanti elementi sarà composta la soluzione e quindi la condizione di terminazione dovrà essere diversa tipo non riesco più ad aggiungere nulla allora mi fermo oppure la soluzione ha una certa proprietà finora siamo incappati in due esempi in cui la condizione di terminazione è molto semplice adesso se invece non sono nel caso terminale sono nel caso intermedio quindi nel caso intermedio dovrò posizionare aggiungere un elemento nella scacchiera a quelli che ci sono già e gli elementi possibili quali sono? sono tutti i numeri tra 0 e n-1 quindi le mosse possibili sono tutti i numeri che vanno da 0 a n-1 sono tutte le colonne della matrice della scacchiera quella che abbiamo chiamato mossa prima l'abbiamo fatto nel nostro esempio 4x4 provo a metterlo qui va bene sì no ma le prove che ho fatto sono i valori da 0 a 3 le colonne che ho nella mia scacchiera però non tutte le devo provare perché a un certo punto farò uno scacchiera punto ad di mossa ma non posso farlo così impunemente perché devo prima verificare che quella casella lì mossa non vada in conflitto con le regine precedenti quindi mi dovrò chiedere solo se se la posizione sicura di questa mossa data la certa scacchiera facciamo scacchiera mettiamo nello stesso ordine ci avrò bisogno di un metodo che mi dica se su questa scacchiera e scacchiera si porta dietro il livello che mi dice fin dove è piena e n che mi dice quanto è grande potrei mettere tutto in un oggetto ma questa mossa che sto per fare è sicura o no? se sì provo a farla provo a farla e no perché ho verificato che lì non mi mangia allora metto la regina e ho finito il mio lavoro perché il resto della scacchiera lo farà qualcun altro chi? la procedura cerca a cui passo la stessa scacchiera a cui ho appena aggiunto la mossa secondo parametro n rimane n il terzo parametro livello ovviamente lo devo incrementare e poi dalla scacchiera devo backtracking devo cancellare l'intero in posizione scacchiera appunto lo so già anche in posizione livello perché l'ho appena messo io in posizione 0 1 2 3 a seconda del livello quindi lo schema di ricorsione in questo caso è molto simile mentre prima andavo a vedere il pronostico per capire quali erano le scelte e qui le scelte sono sempre fisse da 0,7 ma con la condizione in più quindi la complessità ma il mal di testa mi viene nel fare questo metodo posizione sicura booleano che mi dice sì o no allora è relativamente facile nel senso che basta che io controlli ho la mia mossa ok che è ciò che voglio verificare vado a chiedermi c'è almeno una delle regine delle righe superiori che è sulla stessa colonna della mossa che sto per fare se sì falso quindi vado a vedere tutte le righe precedenti tutte le righe da 0 a livello meno 1 livello dove vorrei metterla io quindi non ci sta ancora da 0 a livello meno 1 ci stanno già regine se la regina che ho messo nella nella riga riga è nella stessa colonna della mossa che voglio fare non è una posizione sicura giusto quindi vado a vedere nella prima riga dove ha messo la regina posizione 2 qual è la mossa che voglio fare posizione 3 vabbè andiamo avanti nella seconda riga dove ha messo la regina posizione 3 qual è la mossa che voglio fare posizione 3 no non va bene non mi devo preoccupare che le regine precedenti si immagino tra di loro perché ognuna a suo tempo e epoca questo controllo l'ha fatto io mi fido di chi stava sopra mi fido di chi viene dopo nella ricorsione mi devo solo preoccupare della mia fettina quindi vado solamente a vedere dove sono le regine e se ce ne è percato qualcuna nella stessa colonna in cui sto per posizionare la mia se nessuna è falsa allora la posizione è sicura no non è vero manca ancora le diagonali però io vado a testare se ci sono delle condizioni in cui mi posso mangiare se non ho trovato nessuna condizione in cui mi posso mangiare alla fine dirò un return true la posizione è sicura allora qui ho verificato le colonne adesso devo verificare la diagonale a destra e poi la diagonale a sinistra quindi mi chiedo la regina che sta nella riga riga può mangiarmi in diagonale visto che io sono nella casella mossa allora facciamo un disegnino noi abbiamo due caselle che vogliamo confrontare una prima regina che è messa qua da qualche parte e un'altra regina che è messa qua da qualche altra parte quali sono questa è quella nuova che vogliamo aggiungere adesso la nostra mossa allora quali sono le coordinate le coordinate di questa sono nel nostro come abbiamo chiamato le variabili riga la colonna è riga scacchiera punto get di riga questa è la sua riga e la sua colonna mentre la riga e la colonna di quest'altra sono la riga sarà livello e la colonna è mossa l'abbiamo chiamata in modo strano però la riga è questa R1 e la sua colonna 1 è questa la riga della seconda è questa e la colonna della seconda è questa allora R1 C1 R2 C2 è un po' più facile da pensare qual è la condizione per cui si possono mangiare con una diagonale destra che la differenza R-C sia uguale R uguale C è la prima diagonale 0 0 1 1 2 2 3 3 poi c'è la diagonale scostata in alto che ha R-C uguale a meno 1 perché la colonna è sempre maggiore di 1 rispetto alla riga 0 1 1 2 2 3 3 4 e quindi con numeri negativi del valore R-C mi trovo tutte le diagonali il luogo delle caselle della scacchiera che ha come R-C una certa costante le costanti positive mi spostano la diagonale in basso di R-C quindi mangia sulla diagonale destra significa che R1-C1 è uguale R2-C2 la diagonale sinistra significa che R1 più C1 uguale R2 più C2 sono costanti questa somma spostandosi su tutte le caselle della stessa diagonale il valore di questa costante dipende dalla diagonale in cui mi posiziono quindi se i valori di queste costanti sono diversi vuol dire che non mi trovo sulla stessa diagonale destra e non mi trovo sulla stessa diagonale sinistra quindi diagonale destra se R1 riga meno C1 scacchiera punto get di riga uguale R2 livello meno C2 mossa return false è ovvio che se uno legge questa riga non capisce niente se non ha fatto insieme a noi il ragionamento sotto ma noi l'abbiamo fatto è uguale col più speriamo che qui la probabilità di sbagliarsi in queste procedurine qua in cui vai a vedere le cose è altissima speriamo di no queste condizioni qua io neanche morto le agremesse qua dentro cioè qui ho la procedura cerca che deve essere compatta ha una sua complessità che è quella della ricorsione mi sventro il cervello perché devo pensare in modo ricorsivo poi lì dentro c'è una procedura che è anche complicata a modo suo ma perché è contorta perché deve avere a che fare con le matrici con le diagonali eccetera teniamole separate queste cose perché se voi provate a mettere questo if questo for e questo if qua dentro non ne uscite vivi quindi un passo alla volta separiamo bene le varie funzionalità se ci sono delle funzioni di dico al contrario una procedura ricorsiva molto spesso si basa su delle funzioni di appoggio calcolami questo verifica se la soluzione è buona verifica se la soluzione è ottima verifica se questa mossa è lecita dimmi quali sono le mosse lecite sono tutte cose che facciamo fare sempre in funzioni esterne non le mettiamo mai dentro la ricorsione se no la ricorsione deve essere pulita già è difficile da capire così se ci aggiungiamo cose che non c'entrano e queste funzioni di appoggio ci sono qua ci possono essere qua quasi sempre ci saranno per verificare se la condizione è terminale o no se è solo un uguale lo metto qua se è qualcosa di più complicato lo metto in una funzione di appoggio funzione di appoggio è normale non è ricorsiva quest'altra funzione semplicemente fa dei calcoli brutti antipatici non li vogliamo vedere puzza la mettiamo sotto si dimmi io la regina sopra è questa io sto per posizionare una regina nuova qua mi chiedo allora non posso farla non posso posizionarla se la mossa che sto per fare cade per caso sulla stessa verticale di questa oppure sulla stessa diagonale di quella di uno qualunque dei livelli prima si 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 le regine possono andare avanti in diagonale o in verticale di un numero di caselle arbitrario 2, 3, 5, 8 caselle certo quindi infatti non sto guardando solo la riga prima a livello meno 1 ma le sto guardando tutte dalla 0 alla livello meno 1 tutte le regine che ho messo dalla prima riga quella regina lì in verticale diagonale sinistra diagonale destra seconda regina è uguale prego allora abbiamo fatto tante parole vediamo se funziona ci manca la chiamata iniziale che deve inizializzare ovviamente una scacchiera vuota quindi avrà un cerca la scacchiera dovrà essere una lista di interi vuota secondo parametro è n che mi viene passato qua come parametro terzo parametro è il livello 0 anche qua questa volta la procedura d'appoggio è molto semplice ma perché la procedura ricorsiva non ha bisogno di quasi nulla semplicemente una lista in cui mettere un po' di numeri interi anche qui la soluzione non la vediamo ma per vederla la possiamo come primo run metterla come una print line qua direttamente dentro la procedura ricorsiva sta un po' la scacchiera allora fatto questo quindi ho aggiunto semplicemente una print line nella condizione terminale visto che non ho ancora il main finito eccetera non riesco ancora portare fuori la soluzione almeno la vedo se riesco a trovarla ok allora proviamo a fare un test regine con una classe main a cui chiedo posiziona quattro regine quattro lo sappiamo fare anche a mano e vediamo dove si pianta essenzialmente o se funziona per caso col primo colpo allora questo qui sembra che non si sia piantato 1,302 1,302 era quella che abbiamo trovato anche noi poi lui ne ha trovato un'altra 2,031 l'abbiamo trovato un'altra perché non abbiamo fatto nulla per fermarlo quando abbiamo detto a parole abbiamo detto quando trovo la prima soluzione puoi uscire dalla ricorsione in realtà non l'abbiamo fatto uscire l'abbiamo fatto tornare indietro nel backtracking però lui sta continuando a cercarle tutte vabbè adesso ci pensiamo diamogli un problemino un pochino più serio 5 e ce n'è già un certo numero di più di soluzioni che vi posso dire mi fido che sono giuste prendetele una a caso proviamo a disegnarla scacchiera da 6 se sono poche ci sono solo 4 soluzioni su una scacchiera da 6 da 7 ce n'è un certo non si vede che il dispari gli piace di più e su una scacchiera da 8 che è il problema originario ce n'è una buona quantità adesso non le abbiamo contate mi spiace ok allora ciò che quindi questo è praticamente completo anche veloce l'unica cosa che non abbiamo ancora fatto è riuscire a pulire l'interfaccia nel senso che questo metodo semplicemente uno stampa tutte le soluzioni mentre io vorrei che si fermasse la prima due le stampa lui anziché restituire la chiamante allora sul restituire la chiamante può essere facile ma in realtà anche sul fermarsi prima come faccio a fermarmi prima? ma rubo solo un minuto perché è facile la procedura cerca quando viene chiamata di solito non ha trovato una soluzione ma a volte sì allora se noi facciamo in modo che quando la procedura cerca trova la soluzione anziché restituire un void restituisca la soluzione o anche solo un boolean l'ho trovata sì l'ho trovata no mi permette di interrompere tutti i for non appena ho trovato una soluzione quindi semplicemente questo cerca lo faccio boolean e quando ho trovato la soluzione ritorno vero altrimenti come l'ultima istruzione ritorno falso ho cercato ma non ho trovato e quando chiamo cerca se ho trovato esco non continuo a cercare cioè if cerca return true cioè se annidato giù di tanti livelli qualcuno mi ha restituito true quando io ricevo questo true nella mia chiamata ricorsiva lascio perdere tutto butto via i miei attrezzi e a mia volta restituisco true al mio chiamante senza neanche finire il for quindi di fatto metto è come fosse un flag di allarme rosso quando tutti lo vedono l'unica cosa che fanno è uscire senza toccare nulla senza toccare nulla occhio vuol dire anche che la scacchiera non lo sto non sto facendo il backtrack della scacchiera la sto lasciando così come era nel momento in cui qualcuno ha detto ho trovato la soluzione allora se faccio così anche nel problema da 8 mi trovo la prima e si ferma come faccio a restituire la prima? vabbè questo è un problema per la funzione di di avvio dove questa array list di integer anziché crearla così senza nome gli do un nome la battezzo in qualche modo e non restituì il suo chiamante tanto so che quando la procedura cerca beh no non proprio se la procedura cerca mi dice che l'ha trovato posso restituire la soluzione se no non ho niente da ritornare però in questo caso sappiamo che c'è sempre quindi quindi la recursione va giù 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 approfondisce scende di livello quando trovo un true uscita d'emergenza con questa uscita d'emergenza noi possiamo togliere questo bruttissimo print line e spostarlo nel main che a questo punto saprà che la soluzione e la potrà stampare saprà la soluzione e potrà stamparla quindi rieseguendolo dovrei vedere esattamente la stessa identica cosa solo che questa volta stampo nel main un valore che in profondità nella procedura ricorsiva ho solamente calcolato e sono riuscito a restituire indietro indietro la chiamante quindi per ricapitolare di nuovo il codice è molto compatto la procedura ricorsiva se tolgo questo ha solamente queste solite cinque righe la differenza rispetto a prima è che nella generazione delle mosse non ho un modo semplice per generare solo le mosse valide allora le provo a generare tutte e vedo se sono valide con una funzione d'appoggio prima differenza quindi ho un modo più complesso per capire quali sono le mosse valide l'altra volta diciamo il branching factor è 3 qui il branching factor non so quanto sia è da 1 a 8 anzi no è da 0 a 8 perché potrebbe anche non esserci nessuna soluzione valida però quanto sia in media lo sapremo solo vivendo oppure mettendo in contatto con lei che le conti sicuramente il massimo è 8 però è variabile ogni volta o di ogni livello lo scopri le variabili in funzione di ciò che è stato fatto nei livelli precedenti quindi ogni volta che torno a livello 4 il numero di soluzioni di mosse possibili cambia perché sopra le regine sono posizionate in un modo diverso e quindi le caselle libere sicure sono diverse in posizione e in numero quindi questa è la prima differenza la seconda differenza è la via d'uscita rapida per uscire dalla ricorsione appena trovo la prima soluzione il modo più semplice è quello di rendere la procedura ricorsiva di tipo boolean e quando viene chiamata la procedura mettere questo if se ritorna true se la cerca ritorna true io a mia volta ritorno true senza toccare nulla quindi lasciando il trucco è lasciare la scacchiera nella posizione in cui era senza fare backtrack in questo modo questa schiera di return che esce dai livelli rapidamente arriva fino alla funzione d'appoggio la funzione chiamante lasciando la variabile soluzione in questo caso esattamente nello stesso stato in cui era quando mi sono accorto che ho trovato la soluzione se fassessi backtrack distruggerai via via ciò che ho appena trovato ok? domande? tante ma dovete digerirle vi lascio riposare un attimo prima del prossimo esercizio che faremo nella prossima ora grazie